Ben ritrovati a tutti da Francesco Amodeo a questo nuovo appuntamento con Fuori dalla Matrix. Nella scorsa puntata abbiamo analizzato la storia del grande Enrico Mattei da quando fu chiamato a liquidare l'ente nazionale idrocarburi fino a quando lo rese invece uno dei principali player mondiali del settore. Abbiamo visto gli scontri che Mattei ha avuto con i membri del cartello petrolifero fino all'attentato che gli è costato la vita sul volo partito da Catania ed esploso in volo il 27 ottobre del 1962. Abbiamo acceso un riflettore su quelli che potrebbero essere stati i mandanti della sua morte analizzando i risultati dell'ultima inchiesta sul caso e le dichiarazioni del giudice Calia che si occupò delle nuove indagini. In questa seconda puntata sul caso Mattei andremo a leggere i documenti dei secretati, i bollettini della CIA che vedono Mattei nel mirino per i suoi incredibili successi al timone dell'Eni. Mi disse che non si piegò alle minacce ma che mise sempre al centro l'interesse nazionale come se vince da questo breve video, guardiamolo insieme. Mi disse che cosa vuol fare in Tunisia? Ma in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice voi non farete la raffineria perché la faremo noi, noi con una delle altre grandi società del cartello insieme, di un'altra delle sette sorelle. E gli chiesi molto umilmente cosa ne pensasi invece di farli in due se si facessi in tre. E allora io a questo momento tirai fuori dalla tasca la matita per altri argomenti da discutere, lo guardai, li cancellai e gli dissi io ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci. Però dico lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita perché noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di lavorare. E non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare. A questo punto ci lasciamo. Io disse al giovane ingegnere che mi accompagnava, dico se lo ricordi, ho visto che egoismo terribile, ma impotente, se lo ricordi per tutta la vita. In quel momento incominciò per la Tunisia come era già successo in Marocco, nel Ghana, in Sudan, una lotta terribile, senza esclusione di colpi. Poi ho visto insieme d'altra parte le società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza, poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane. Le condizioni che sono molto più umane, incredibile Enrico Mattei. Uomini così davvero non ne fanno più. Ma ora guardiamo nei documenti dei secretati della CIA quelli che erano stati tutti i successi di Mattei, che lo avevano fatto finire nel mirino non solo dei servizi anglo-americani, ma soprattutto delle grandi compagnie petrolifere. Cominciamo dal primo, leggiamolo insieme. Questo è il bollettino della CIA. Ora guardiamo insieme la traduzione di questo documento. L'andremo a leggere insieme. Lo Shah dell'Iran ha avviato un accordo petrolifero con la compagnia di proprietà del governo italiano, l'ente nazionale idrocarburi, a condizioni più favolevoli per l'Iran rispetto ad altri accordi petroliferi. I termini apparentemente consisterebbero nella divisione del profitto su una base di circa 75 a 25 in favore dell'Iran. Anche se questo particolare accordo non venisse portato a termine, potrebbe portare all'obiettivo del direttore dell'ENI Mattei, ossia quello di conseguire una quota italiana nel quadro petrolifero orientale. Già all'inizio del mese Mattei aveva minacciato i rappresentanti delle compagnie petrolifere occidentali, che avrebbe metaforicamente rovesciato l'intero carrello delle mele in Medio Oriente, se non avessero collaborato con la compagnia italiana. Fonti dell'industria petrolifera concordano enfaticamente sul fatto che l'ENI abbia queste capacità. Secondo quanto riferito, l'accordo italo-iraniano prevede lo sviluppo di almeno una parte del promettente giacimento di Qumasud di Teheran. Secondo quanto riferito, il governo iraniano avrebbe investito il 50% del capitale e gli italiani l'altra metà. I profitti derivanti dalla quota iraniana dell'investimento andrebbero esclusivamente al governo e l'Iran prenderebbe anche la metà dei profitti della società italiana. Quindi io non so se avete capito questo che cosa significava. Quindi Mattei era riuscito, senza infrangere la regola del 50% dei profitti ai paesi produttori, era riuscito però a bypassarla trovando un escamotaggio. In pratica dava ai paesi produttori il 50% così come era imposto dal regolamento di quei tempi, ma poi del 50% dell'ENI ne divideva un altro 25% con i paesi produttori. In questo caso aveva quindi mandato totalmente in tilt tutto il sistema, perché tutti gli altri paesi produttori di fronte a queste concessioni di Mattei avevano intenzione di rivedere con le grandi compagnie petrolifere i termini dei contratti in essere. Questo avrebbe causato una perdita di una cifra assolutamente incalcolabile per le grandi compagnie petrolifere. Guardiamo infatti sempre nel documento che cosa si legge, andiamo a vederlo insieme. Mentre tecnicamente questo può essere considerato come una non violazione del principio del 50 e 50, in realtà lo sarebbe. Se l'accordo siglato andasse in porto, la divisione 75-25 susciterebbe richieste di rinegoziazione dei contratti petroliferi in altri paesi del Medio Oriente e probabilmente in tutto il mondo. Rendetevi conto che un uomo solo era riuscito a chiudere in un angolo le sette principali compagnie petrolifere del mondo. Se il suo accordo con i paesi produttori fosse andato in porto e se non fossero riusciti ad interromperlo, tutti gli altri paesi avrebbero richiesto una rinegoziazione con i termini più favorevoli come quelli dati da Mattei ai paesi medio orientali. Questo fece ovviamente andare su tutte le furie le compagnie petrolifere e richiesero l'intervento dell'intelligence anglo-americana. Continuiamo a leggere all'interno di questi documenti. Enrico Mattei, presidente dell'ente nazionale del petrolio, sta negoziando con l'Arabia Saudita e si aspetta di ricevere i diritti di sfruttamento del petrolio per circa 200.000 miglie quadrate. Mattei ha già sfidato il modello di ripartizione dei profitti al 50% per le concezioni straniere in Italia e in Iran. Questo ovviamente era qualcosa, lo abbiamo detto, di assolutamente inaccettabile per il cartello petrolifero. Continuiamo perché i documenti sono tanti ma sono tutti interessanti per capire cosa stava facendo Mattei e perché esplose in volo. Enrico Mattei, il potente presidente dell'ENI, è a Pechino per colloqui con funzionari cinesi del commercio estero. Secondo la stampa, intende vendere fertilizzanti chimici provenienti dall'impianto petrolchimico di Ravenna. Tuttavia ha portato con sé funzionari delle società controllate dall'ENI che si occupano della produzione di piattaforme petrolifere e di oliodotti. Mattei, che pare abbia l'approvazione del premier e del ministro degli esteri Fanfani, per questo viaggio aveva fatto tappa anche a Mosca, dove avrebbe partecipato a colloqui italo-sovietici per accordi commerciali. Mattei aveva da poco annunciato la conclusione di accordi con l'Unione Sovietica, uno per l'acquisto l'anno prossimo di 800.000 tonnellate di petrolio grezzo russo e per le raffinerie dell'ENI, l'altro invece per la vendita nel 1959 di 8.000 tonnellate di gomma sintetica dello stabilimento ENI di Ravenna, ossia Enrico Mattei nel pieno della guerra fredda, nel pieno della contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, quegli Stati Uniti che volevano mettere le mani sul nostro paese ritenendolo indispensabile sia per i loro affari, sia perché è un paese strategico al centro del Mediterraneo, sia perché è un paese ai confini con la cortina di ferro. Bene, un imprenditore italiano, il più famoso degli imprenditori italiani, aveva invece deciso di fare affari anche con il nemico storico degli Stati Uniti, ossia con l'Unione Sovietica e con la Cina. Questo era per loro assolutamente imperdonabile. Andiamo avanti, leggiamo il nuovo documento. Il viaggio a Pechino e l'accordo con Mosca sono indicativi della volontà di Mattei e di Fanfani di sviluppare rapporti economici più stretti con il blocco sino-sovietico, in aggiunta all'espansione dei contatti dell'Italia in Medio Oriente. C'è qualche dubbio, tuttavia, che le materie prime offerte dai cinesi per l'esportazione interessino davvero gli italiani. Pechino potrebbe premere in questo momento per lo scambio di delegazioni commerciali permanenti tra i due paesi. Avete capito bene? Enrico Mattei stava per introdurre delle commissioni permanenti per il commercio e gli scambi di petrolio con la Cina, quello che era già all'epoca un grande nemico degli Stati Uniti, ma soprattutto, lo abbiamo visto prima, lo stava facendo con l'Unione Sovietica. Allora continuiamo a leggere, perché in questi documenti c'è tutta la verità. Il controverso capo dell'Eni ha dimostrato la sua indifferenza verso la regola del 50% nella divisione dei profitti con le compagnie straniere, concedendo al governo libico un'opzione per l'acquisto del 30% delle operazioni libiche dell'Eni e offrendo altri incentivi che si discostano da quella norma. Mattei ha anche accusato pubblicamente la compagnia americana e le compagnie inglesi di aver provato a voigottarlo in Libia. Se voi state leggendo dove lì è scritto fonte, bollettino della CIA, è anche segnato l'anno in cui venivano preparati dalla CIA questi documenti. Stiamo andando progressivamente dagli inizi degli anni 50 fino ai primi degli anni 60. Vedremo poi negli ultimi documenti, ossia quelli che sono stati redatti pochi mesi prima dell'attentato ad Enrico Battei, che come abbiamo anticipato esploderà in volo mentre era diretto verso la Tunisia. Guardiamo ancora gli altri documenti. La società iraniana italiana del petrolio Sirip avrebbe effettuato un'importante scoperta di petrolio nella sua concessione offshore all'estremità settentrionale del Golfo Persico. I primi test indicano che il pozzo ha un potenziale di produzione di circa 3.500 barili al giorno. La Sirip è stata costituita nell'agosto del 1957 con un accordo tra la compagnia petrolifera Eni, controllata dal governo italiano, e la compagnia di proprietà del governo iraniano. Rompendo la tradizionale formula di condivisione degli utili al 50%, l'Eni ha accettato di dare al governo italiano il 75% dei profitti della Sirip di proprietà congiunta. Questa scoperta probabilmente incoraggerà Enrico Battei, lo zar del petrolio del governo italiano, a intensificare il suo programma di costruzione di una vasta rete di raffinazione e distribuzione. Le attività attuali di Battei si estendono fino all'Argentina, ma i suoi sforzi maggiori sembrano concentrarsi in Africa. Battei è amareggiato dalle compagnie petrolifere internazionali americane e britanniche. Da tempo ritiene che queste compagnie siano state determinanti nel tenere fuori leni dal Consorzio di Compagnie Occidentali creato per gestire l'industria petrolifera italiana dopo il fallimento della nazionalizzazione di Mossadegh. Da allora in concorrenza con queste società ha ampliato le operazioni dell'Eni su vasta scala. Questo vi spiega che addirittura Enrico Battei aveva costituito una società congiunta con l'Iran, l'altro nemico storico degli Stati Uniti d'America, soprattutto quell'Iran che aveva osato nazionalizzare il petrolio. Bene, Mattei non solo farà affari con l'Iran, ma costituirà un'azienda divisa con l'ente nazionale iraniano al 50%. Altra cosa assolutamente inaccettabile. Gli anni passano, lo vediamo nella fonte dei documenti, ci avviciniamo sempre di più al giorno della morte di Enrico Mattei, ma presto vi sarà abbastanza chiaro chi possono essere stati i mandanti. Continuiamo a guardare. Molte compagnie petrolifere statunitensi sono apparentemente molto preoccupate per il recente accordo tra l'Unione Sovietica e l'italiana Eni. L'Eni ha portato avanti per molti anni una faida con le compagnie petrolifere internazionali occidentali. Fu Enrico Mattei, capo dell'Eni, a rompere per la prima volta il tradizionale schema di accordi 50% con i paesi del Medio Oriente, già nel 1955. Tra le sue altre rimostranze, fantasiose o reali che siano, Mattei incolpa le compagnie petrolifere statunitensi di tenere l'Eni fuori dalla Libia. E' possibile che le compagnie petrolifere statunitensi considerino Mattei un antagonista. In realtà, l'ho messo tra parentesi, nel testo originale usano la parola Villain, quasi come se gli dessero del Villano, una parola sicuramente molto più forte, un dispregiativo rispetto alla parola antagonista. Continuiamo a leggere. Addirittura lo considerano un antagonista nelle questioni italiane tanto quanto i sovietici, se non di più. L'ente nazionale italiano idrocarburi, guidato da Enrico Mattei, è diventato uno Stato nello Stato. Il monopolio che esercita nel settore petrolifero probabilmente continuerà a provocare delle frizioni fra Italia e Stati Uniti a causa degli investimenti nel mondo arabo e dei crescenti scambi con l'Unione Sovietica. Hanno scritto, hanno messo nero su bianco che considerano Mattei un antagonista al pari dell'Unione Sovietica, ossia quella che era considerata la potenza antagonista per eccellente degli Stati Uniti. Quella contro cui gli Stati Uniti misero in essere tutte le peggiori e più spietate operazioni, eppure, lo abbiamo letto, quegli stessi apparati consideravano Enrico Mattei un nemico al pari dell'Unione Sovietica, con la quale invece, come abbiamo letto, Enrico Mattei stava addirittura facendo affari. Siamo arrivati al 1960, siamo ormai vicinissimi al giorno dello scoppio in volo. La fine di Mattei è sempre più vicina, come si evince, leggendo questi documenti. Mattei è ormai già un morto che cammina, perché in queste parole c'è una vera e propria sentenza. Le grandi aziende petrolifere e gli interessi anglo-americani per essere tutelati hanno bisogno che Mattei finisca fuori dai giochi. Continuiamo a leggere, perché adesso arriva un documento molto importante che è stato redatto pochi mesi prima della morte di Mattei, un documento che viene preparato direttamente dalla CIA, che viene consegnato allo spietato Allen Dalsi, il più spietato e potente dei direttori della CIA. Di lui abbiamo parlato nelle precedenti puntate a proposito del cartello finanziario. leggiamo che cosa scrivono in questo documento chiamato Outlook for Italy, quindi focalizzato esclusivamente sulla questione italiana, in particolare sul ruolo di Enrico Mattei. Leggiamolo insieme. Le operazioni di commercio estero ed in particolare quelle di Mattei e del suo monopolio petrolifero di proprietà statale, continueranno probabilmente a causare delle frizioni fra Italia e Stati Uniti. Come abbiamo già detto anche prima, questa frase si ripete in più documenti. Mattei ha condotto un'aggressiva campagna per ottenere concessioni petrolifere in competizioni con le più importanti società energetiche americane e occidentali ed è riuscito ad avere significativi successi in Iran, in Libia e in Ghana. I contratti e i territori conquistati dall'Eni su questi scenari destano preoccupazione a Washington a causa delle ripercussioni che potrebbero avere. L'enorme influenza di Mattei nella politica interna, la necessità di petrolio a basso costo per l'industria italiana ed il prestigio conseguente alla presenza del logo dell'Eni in alcune zone sottosviluppate portano a prevedere che il governo farà ben poco per ridurre in maniera significativa le attività di Mattei. Il governo farà ben poco, questo vuol dire che qualcun altro, secondo chi ha redatto questi documenti, doveva fare uno sforzo in più per fermarlo, perché con ogni evidenza non sarebbe stato il governo italiano nelle condizioni di poterlo fare, quindi dovevano trovare una nuova soluzione. In alcuni documenti si legge addirittura che la pratica doveva passare all'intelligence, ma continuiamo a leggere. Mattei ha inoltre promosso l'espansione dell'accordo commerciale fra Italia e Unione Sovietica, in forza del quale i sovietici forniranno circa il 17% del greggio che sarà raffinato annualmente nella penisola in cambio di petroliere, materiale per la costruzione di oleodotti ed altri importanti beni materiali pesanti. Quindi questa a mio avviso è la sentenza finale. Enrico Mattei ha deciso di fare accordi con l'Unione Sovietica, degli accordi che non sono neanche dei tipici accordi commerciali, ma spesso è un vero e proprio scambio di materie prime per prodotti finiti. Quindi aveva trovato un'altra formula che mandava totalmente in tilt il comparto dopo aver trovato una formula originale per bypassare l'obbligo del 50% massimo dei profitti da poter dare ai paesi produttori. Stava veramente creando dei problemi enormi alle grandi compagnie anglo-americane. Dall'ultimo documento, redatto pochi mesi prima della morte di Mattei, si capisce che chi scrive ha la consapevolezza che non c'era altro modo per fermarlo. Lo mettono nero su bianco, dicono non possiamo sperare che sia il governo italiano a fermarlo. Bene, qualcuno ci pensò quando venne manomesso il suo aereo mobile in partenza dalla Sicilia, dove Enrico Mattei, come abbiamo visto nella scorsa puntata, era stato ingannevolmente richiamato. Quell'aereo che viene portato la sera prima in un hangar militare e viene poi manomesso per esplodere in volo. Ci saranno tantissimi depistaggi, lo abbiamo visto per tanti anni. Si parlerà di una fortuita esplosione, di un incidente, qualcuno addirittura nei libri di scuola ancora scrive che Mattei è morto perché si è ostinato a partire con il maltempo. Noi questo non possiamo assolutamente accettarlo, soprattutto dopo che l'ultima inchiesta di Calì ha accertato che c'era dell'esplosivo, esplosivo compound posizionato ed attivato. quando è stato attivato il carrello dell'aereo. Quindi è giusto riscrivere la storia di quel incidente. Che incidente non è stato? Abbiamo visto quanti nemici si era fatto Mattei, abbiamo visto chi erano i nemici di Mattei. Non abbiamo avuto timore a mostrarvi documenti assolutamente riservatissimi, documenti che per anni sono stati segretati. Ma questa è la missione di fuori dalla Matrix e continueremo a portarla avanti. Nella prossima puntata infatti parleremo di un altro grande imprenditore italiano, un altro degli uomini più grandi che l'Italia abbia mai avuto. Stiamo parlando di Adriano Olivetti che ha combattuto tutta la vita per dare all'Italia l'indipendenza e la leadership nel settore tecnologico. Anche lui morì su un treno diretto in Svizzera. Si parlerà di un malore improvviso. Ma anche lì la verità può essere quella da pillola rossa, scusate, non quella da pillola azzurra come proposta dai media mainstream. Lo scopriremo nella prossima puntata. Sempre e solo qui, a fuori dalla Matrix. Vi aspetto lunedì prossimo. Nell'ultimi tempi suo marito aveva più vivo di prima il senso del precario, del provvisorio, tanto da farlo parlare più spesso dalla morte. Non è che parlava della morte. Lui diceva solamente che, insomma, questi minacci che erano fatte da tutte le parti, che, insomma, ogni tanto lo preoccupavano. Una notte sono svegliata e visto che lui piangeva ed era molto preoccupato. Digo, ma cosa c'è? Perché sei così riquieto? Allora lui mi diceva sì, è un'altra minaccia, mi vogliono, insomma, levare dalla circolazione. E piangeva molto. Voglio una carta che io ho chiesto, uno scritto, insomma. Io ho chiesto, me lo fai leggere? Chi è? Cosa ti dicono? Com'è questa minaccia? No, no, no. Meglio che tu non lo leggi perché poi tu ti agiti e poi non pensi a tante cose, è meglio che tu stai tranquillo. E così non me lo fece leggere.